... Rimini, settimana aerea. De Bernardi sulla bilancia e la Contessa Negrone prevede lo scherzo del peso sofisticato. Nel decollo è leggera e veramente alata. Oggi circuito di qualificazione e comporta prove di decollo su ostacolo di un metro, di atterraggio su ostacolo di cinque metri. Più precisi che un cavallo alla siepe, questi moderni ipogriffi. Geografia d'Italia, sensibile come su un plastico a guardarla di qua su. E combacia con la poesia d'Italia. Vertici del circuito, Rimini, Cernia, Cesena e lungo la via l'elica ricanta col pascoli. Il paese, ove andando, ci accompagna all'azzurra visione di San Marino. Venezia, San Nicolò, ottava giornata. Maimone Cap saluta i partenti. E il sottosegretario all'aeronautica dà uno dei via. Gara di velocità. E i piloni devono essere sorvolati da mano sinistra con regolamento strettissimo. E il calcolo della velocità, se volete saperlo, è molto semplice. K moltiplicato radice cubica di W diviso S. Con tale formula si sorvola la pace rustica di Purano. Vincitore con macchi 308, Guagnellini. Che ha totalizzato nei cieli della Serenissima la più brillante radice cubica di W diviso S. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.